Sì, domani, sì. E non ci devono stare erroni, hai capito bene? E quando hai fatto, torna qua. E tutto è rotto. Non credo. La guerra è caos e noi ci stiamo in mezzo. Stato tranquillo, ormai De Giovanni c'ha solo terra bruciata intorno. Dimmi, Vincenzo, quanto valeva per te quell'uomo che stanno ammazzato? Cosa volete dire? Tutto si misura, anche il valore di una morte. Allora, quanto valeva e quanto vale quello che l'ha ammazzato? Che dovrei fare secondo me? Fare finta che non è successo niente, Don Carmé? Quello era uno dei miei. Ed è grazie a lui se avete saputo. Io so solo una cosa che ogni colpo sparato ne deve rispondere un altro. E questa è l'unica regola che conosco. Per me ormai c'è un solo colpo che conta. L'ultimo. Quando verrà il momento? Intanto la faccio pagare a chi ha ammazzato Ciro.